Libertà è partecipazione Alessandro Il Grande, Presidente del Consiglio Comunale. Un ruolo particolarmente difficile perché deve tenere a freno sia la maggioranza sia l'opposizione e poi portare in discussione nei vari consigli comunali problemi importanti ma anche problemi quotidiani perché un comune, una città vive di problemi quotidiani. Come se la sta cavando? Beh, innanzitutto sono stati quattro anni importanti anche personalmente perché comunque è un ruolo super partes. Devo dire che si è stabilito con tutti i consiglieri, con l'amministrazione, con il sindaco, un equilibrio che sicuramente ha portato a lavorare con tranquillità ma soprattutto con profitto perché comunque sono state tante le iniziative che sono state discusse e portate all'attenzione del Consiglio Comunale. Qui ci troviamo nella terrazza del Casino Municipale perché oggi è un giorno importante. Ecco, abbiamo anche il maestro qua, lo chef. Venga pure, venga pure che così ci omaggia di questo calice di buon vino. Ma perché siamo qua? Siamo qua perché oggi è stata inaugurata questa terrazza che è una terrazza veramente storica che è rimasta quasi inattiva. Prendiamo perché il calice porta fortuna, Presidente. Grazie, ne abbiamo anche uno per il nostro Paolo, il nostro camera, ma che poi brindirà anche lui. Perché? Perché questa terrazza qui è storica, è una terrazza che si affaccia proprio su Via Matteotti, è una terrazza che è il balcone più bello di Sanremo. Il balcone più bello di Sanremo. E su questa terrazza qui dove noi insieme al Presidente del Consiglio, Alessandro il Grande, facciamo un brindisi, ma facciamo un brindisi ricordando anche un personaggio storico qui che amava Sanremo e che Sanremo deve tanto, Pirandello. Pensate che Pirandello su questa terrazza, negli anni 30, dove era stato chiamato dal comune di Sanremo e dal direttore del casino, negli anni 30 era stato chiamato per fare una consulenza per la cultura e il teatro. Perché il teatro del casino di Sanremo era un teatro importante. Quasi tutte le compagnie teatrali venivano qui a fare il numero zero quando provavano delle nuove compagnie. Venivano qui perché il pubblico teatrale di Sanremo aveva veramente il metro se un'opera andava bene o andava male. Dagli applausi del numero zero delle prove, gli organizzatori sapevano se avevano successo in Italia e all'estero. E qui Pirandello, io appoggio il calice, qui Pirandello si appoggiava da questa terrazza e si fumava il suo sigaro. Erano gli anni 30, è una cosa storica veramente. E qui Pirandello anche aveva maturato un suo amore con Marta Abba, un'attrice fantastica nata nel 1900 a Milano e aveva incontrato qui Pirandello quando lei aveva 25 anni. Pirandello ne aveva già 55 e da lì era nato un amore. E Marta Abba aveva anche qui partecipato come direttrice addirittura del centro culturale, aveva preparato anche delle scene per il teatro di Sanremo. La storia, però veniamo al presente, però la storia non bisogna mai dimenticarla. Assolutamente, no, no, questo è un aneddoto importante, penso che oltre personalmente ad essere onorato tutti i cittadini saranno onorati di questa delizia che ci ha raccontato, ma soprattutto aver avuto un personaggio come Pirandello qui nella casa di gioco, secondo me è un valore aggiunto non solo per il casino ma per tutta la città. Non apprezzo, e ha fatto bene il direttore generale Prestinoni, il presidente del CDA, anche i presidenti precedenti a voler ristrutturare tutta questa opera perché è storia, è cultura, è vita ed è anche una proiezione verso un futuro diverso turistico, culturale e anche così di immagine all'estero. Assolutamente, secondo me questo restyling che è stato fatto porterà sicuramente un maggior valore aggiunto, come dicevo prima, sia al casino perché comunque i giocatori potranno avere una sala elegante, come è stato detto proprio nella conferenza stampa, sono stati scelti degli arredi che danno lustro, sia al casino ma soprattutto a una città che ha sempre più bisogno di investimenti. Sicuramente, te prima venendo su questa terrazza mi diceva che hai riuscito a conquistare sotto il profilo promozionale e anche pubblicitario un traguardo importante, ce lo vuole così sintetizzare? Sì, ieri al CAL, che sarebbe il Consiglio delle Autonomie Locali, è stata discussa una legge regionale che riguarda la ludopatia e proprio nel consulto che ha dato l'Anci con il CAL c'era una norma, il comma 5, dove praticamente vietava su tutto il territorio regionale la pubblicità del gioco d'azzardo. Ora di qui c'è stato da parte mia un intervento, una modifica a questo comma, facendo valere che un conto sono le macchine che vengono messe nelle attività commerciali, le slot, le videolotte, è un altro conto, invece è un'attività come il casino che comunque fa, oltre a un'attività sicuramente da gioco, che viene controllata sotto l'aspetto della ludopatia, perché comunque per esempio i familiari possono anche interdire una persona che se non vuole che venga al casino. Questo è un fattore molto molto importante. Pertanto questa mia richiesta di far sì che il casino fosse trattato alla pari, ma soprattutto avesse la possibilità, perché noi non ci dimentichiamo che abbiamo avuto problemi per esempio con il casino di Mentone che veniva sotto il casino di Sanremo a fare pubblicità con delle belle ragazze. E voi non potevate fare niente? No, noi ci siamo, mi ricordo è stata proprio una mia iniziativa, sono intervenuto con uno scritto sia al casino ma anche al casino di Mentone che non mi sembrava molto opportuno e pertanto poi c'è stato così da parte di tutti la possibilità di chiarirsi e oggi ognuno potrà fare la forma di pubblicità che meglio ritiene, ma soprattutto era importante far sì che questa norma non fosse applicata al casino di Sanremo. Che aveva soltanto così delle perdite e non dei guadagni praticamente, era discriminato? Assolutamente sì. Senta, la stagione estiva sta arrivando alle porte, tra i problemi di Sanremo che purtroppo spesso e volentieri succedono c'è quello dell'inquinamento delle fogne. Com'è la situazione? Perché ho visto che state investendo parecchi soldi proprio per eliminare questi rischi. Io devo dire che il Sindaco Biancheri con la Giunta si stanno molto impegnando, so che comunque sono stati stanziati dei soldi per far sì che comunque la nostra città non abbia problematiche nella stagione estiva perché non possiamo dimenticarci che noi, la nostra città vive proprio tutto l'anno ma specialmente nella stagione estiva gli stabilimenti balneari sono delle attività molto importanti. E pertanto sono un volano per l'economia in generale e l'amministrazione ha fatto bene a stanziare e soprattutto intervenire laddove ci sono delle criticità. Senta, lei è da quattro anni che è a Palazzo Bellevue, è la prima volta però un ruolo importante. Cosa ha potuto capire? Cosa serve a Sanremo? Così veramente come scossa elettrica? Cosa ci vorrebbe? Beh, sono tante le tematiche che vanno a ricoprire in un'amministrazione della città. Oggi siamo al Casinò, abbiamo tante società partecipate, abbiamo avuto comunque delle problematiche all'interno del Comune, come lei ben ricorda, dei licenziamenti. I famosi purtroppo le retate contro i furbetti del cartellino. Sono state tante le tematiche che in questi quattro anni sono state affrontate, però di cose io ritengo che ne siano state fatte e anche molto importanti. Devo dire che il sindaco Biancheri è un sindaco che vive molto la città, è amato e pertanto ritengo che abbia lavorato bene in questi quattro anni, abbiamo ancora un anno per portare avanti delle iniziative importanti per la città e pertanto bisogna tutti insieme passare ancora questo anno e poi decidere il futuro. Certo, certo. E proprio sul tappeto ci sono delle iniziative importanti a livello anche economico, come si parla di ristrutturare il portovecchio, delle prospettive anche che possono cambiare la mobilità interna, nuove strade, nuovi parcheggi. Queste pratiche però arriveranno in Consiglio Comunale? Io penso proprio di sì, penso che come ha detto ben lei il porto è molto importante, non solo, poi abbiamo anche il palazzetto dello sport che è comunque all'ordine del giorno dell'amministrazione, le telecamere nelle frazioni, nella pista ciclabile. Io ritengo che ci siano tante pratiche che si possano lavorare anche bi-partisan e soprattutto non dobbiamo dimenticarci i nostri cittadini che tutti i giorni chiedono comunque interventi. Ci sono, come ha detto lei, giustamente il porto, ma non dobbiamo dimenticarci le strade, tutto quello che la gente segnala. Sono necessari interventi su tutto lo strato della città. E con la città il cittadino chiede anche di forse maggior sicurezza. Voi avete dei contatti quasi periodici con le forze dell'ordine, con la prefettura, quindi per l'estate state studiando un potenziamento perché l'estate la popolazione si raddoppia, a certe volte diventa anche tre volte tanto e c'è più necessità di controllo. Guardi, questo è un argomento che mi trovo abbastanza preparato perché proprio in questi quattro anni ho dato una mano al sindaco sulla sicurezza perché è una tematica a me cara e da tanti anni proprio che seguo. Allora, innanzitutto noi nei comitati d'ordine pubblico e sicurezza abbiamo fatto più volte con il sindaco valere la nostra posizione che è una città molto importante che ha bisogno sicuramente di uomini e di mezzo. Per quanto concerne le attività che può fare il sindaco e l'amministrazione è stato fatto un nuovo sistema di videosorveglianza che ha portato comunque in città una rete tecnologica che proprio oggi dalle indagini fatte dalle forze di polizia si consegnano proprio alla... Sì, sì, tutti i giorni si consegnano alle forze dell'ordine proprio queste persone che delinquono. Pertanto questo lavoro che è stato fatto capillare sulla città ha dato sicuramente i suoi frutti e ne darà. Ma non dimentichiamoci poi quello che stiamo portando avanti è sicuramente l'assunzione con la polizia municipale, quattro vigili a tempo indeterminato e per la stagione estiva abbiamo stanziato i soldi per assumere anche otto vigili. Io penso che oltre ad aver applicato anche il decreto Minniti, aver cambiato il regolamento di polizia urbana. Quindi più sicurezza. Io vorrei pregare Paolo, vedete che si sta popolando questa terrazza il primo giorno e sta dando i suoi frutti perché è uno spazio veramente vivibile. Io pregherei anche Paolo adesso e pregherei anche il presidente di alzare il calice visto che il responsabile del bistrò ci ha così portato il calice. Facciamo questo brindisi all'estate e che Sanremo veramente riesca a riscattarsi e diventare veramente quella che era quando fu realizzato e costruito questo casino. Assolutamente sì, sono d'accordo con lei. Oggi godiamoci la festa del casino municipale ma soprattutto godiamoci la festa della stagione estiva che porterà sicuramente a Sanremo tanti turisti. Grazie. Ciao.